Si è chiuso con una fumata bianca l'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra le associazioni che rappresentano i risparmiatori azzerati dai crack delle banche, tra questi anche quelli della vecchia Etruria ed il governo. Ad avere la meglio è stata la linea dettata dal ministro dell'economia Giovanni Tria e concordata con Bruxelles a doppio binario, rimborso diretto per i truffati con redditi medio-bassi e arbitrato nel restante 10% dei casi. È venuto fuori che la legge primaria che istituisce il fondo, il cosiddetto FIR, dovrà essere riscritta, dovrà seguire quelli che sono i dettami della comunità europea, verrà inserita una scriminante all'interno privilegiando l'accesso al fondo ovviamente di quelli che sono i soggetti più deboli. Dunque accesso automatico per i risparmiatori con una situazione ISEE inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare fino a 100.000, tutti gli altri casi invece dovranno passare per un controllo arbitrale. L'indennizzo sarà del 30% per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinati. Noi da sempre abbiamo chiesto il rimborso totale degli obbligazionisti proprio perché gli obbligazionisti in realtà sono prestatori di denaro alle banche e sembra che finalmente si arrivi ad un rimborso molto vicino al 100%. Adesso si attendono i decreti attuativi per modificare la legge di bilancio e destinare così un miliardo e mezzo ai ristori. Che presumibilmente la comunità europea avrebbe sollevato queste eccezioni in realtà lo si sapeva e poteva essere fatta prima. Abbiamo perso tempo, è quello che noi temiamo che si perderà ulteriormente tempo.